Nicola Molteni, il Governo Letta per risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri sta pensando di modificare il carcere preventivo, ovvero? Oggi c'è un rischio gravissimo che la Lega denuncia, ovvero questa proposta di legge della maggioranza che per affrontare il problema del sovraffollamento delle carceri, nuovamente il problema del sovraffollamento delle carceri, decide di toccare la carcerazione preventiva. C'è un punto però rispetto al quale la Lega non è d'accordo e non potrà mai essere d'accordo, ovvero la possibilità che per chi commette reati gravissimi, i reati di violenza sessuale, la violenza sessuale di gruppo, il sequestro di persona o l'omicidio volontario, non vi sarà più l'obbligatorietà anche se in via cautelare del carcere. Questo a nostro avviso configura da un lato un mini indulto, nuovamente chi commette reati così gravi non finirà in carcere e dall'altro lato rappresenta l'ennesimo schiaffo, l'ennesimo oltraggio nei confronti della vittima di reati così gravi. Quindi omicidi, violentatori, con questa norma che la maggioranza e il governo vogliono approvare, non finiranno e non sconteranno, anche se in via preventiva, il reato commesso in carcere. È una vergogna, siamo gli unici che denunciano questa indecenza da parte di governo e maggioranza e ovviamente faremo il possibile perché questa norma venga modificata. Sempre nelle carcere il ministro Cancellieri sta pensando di inserire impianti sportivi? Sì, siamo ormai alle comiche finali. Un ministro che non ha più autorevolezza, un ministro dimezzato, azzoppato dal caso Fonsai Ligresti, continua a proporre in materia di carceri soluzioni che sono offensive in primo luogo nei confronti delle vittime e dei reati. Oggi quei pochi soldi che ci sono dovrebbero essere utilizzati e spesi per costruire nuove carceri, per ampliare le 38 carceri fantasma e ristrutturare le 38 carceri fantasma che potrebbero accogliere nuovi detenuti. Invece il ministro avanza proposte quantomeno folli, ovvero quella di poter costruire all'interno delle carceri dei nuovi impianti sportivi, come se le carceri per il ministro siano dei centri benessere e non invece dei luoghi di espiazione della pena. Io credo che queste proposte dimostrino come il ministro Cancellieri non sia più idonea ed adeguata a svolgere la funzione di guarda-sigilli. Meglio.